eccoci tornati bimbi Thea dove eravamo rimasti? se non sbaglio alla bicicletta di nonno panzer hai ragione Thea eravamo proprio qui io sventolai una cartina nonno picco puzzolo è lontano è la strada per arrivarci tutta in salita se partite subito pedalando tutta notte potete arrivare all'alba dai che vi fa bene vi tonifica i polpaccetti eh io ho la vostra età un percorso così l'avrei fatto andata e ritorno contromano bendato pedalando con una gamba sola senza mani e aprì la porta sul cortile e indicò un bizzarro super tandem a tre posti io chiesi e zia Lippa? nonno non pretenderai che pedali anche lei il nonno soghignò non avete ancora visto il sidecar? agganciò il sidecar una buffa per rottella alla prima bicicletta e vi fece salire zia Lippa che lo guardava con aria perplessa non osava protestare per timore di essere lasciata a casa io chiesi ancora e Benjamin? il nonno soghignò mancate di fantasia parenti ecco il seggiolino da applicare alla prima bicicletta naturalmente il roditore che siederà sulla prima bicicletta dovrà fare molta 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 più fatica degli altri Ammarabaci Ciccocco ci preparammo a partire ciascuno infilò il bagaglio nelle tasche laterali della propria bicicletta io chiesi chi pedalerà sulla prima bicicletta? suggerirei di fare a turno trappola però improvvisò una conta Ammarabaci Ciccocco tre calciatori sul pedalo che facevano catenaccio per fermare un pallonaccio il babbeo che pedalerà e proprio questo qua Ciccacicabum Cic e alla fine indico a me io volevo protestare ma il nonno gridò dalla finestra basta chiacchiere in sella dai che l'albe è vicina trovate crossone cross non tornate senza di lui o l'eredità ve la potete scordare capito? iniziamo a pedalare Zia Lippa era preoccupata per me nipote carissimo ma te la senti di pedalare fino picco puzzolo? io la rassicurai con il fiatone stai tranquilla zia arriveremo sani e salvi alla meta Zia Lippa mi passò una borraccia e un panino al triplo formaggio mangia nipote carissimo ti darà la forza Benjamin intanto mi raccontava delle barzellette così ti terrò allegro zio come si chiama il più famoso portiere rumenu? manescus saracinescu come si vestono i calciatori che giocano in casa? in accappatoio e pantofole Giulio domanda all'amico lo sai che differenza c'è tra una squadra di calcio e il sottoscritto? no che la squadra il 4-1-2-1-2 lo adotta in campo io in padella la dieta del calciatore mentre pedalavo su e giù dalle colline verso picco puzzolo notai che dalla borsa laterale della mia bicicletta cociollava un liquido giallo e appiccicoso che cosa poteva essere? lo assaggiai era miele apri la borsa e vedi un barattolo di miele con il tappo aperto il miele aveva inzuppato tutto il mio bagaglio gli ostri l'hai disperato la mia camicia schirata la mia mancheria di ricambio le mie pantofole trappola lesto acchiappò il barattolo dammi qua questo è miele mio ciccicabum miele? che te ne fai? il miele mi serve perché dà energia ho inventato una dieta speciale la dieta del calciatore tutti i cibi energetici ma perché non hai messo il miele nel tuo di bagaglio? ciccicabumci perché nel mio non c'era più posto nel mio bagaglio ho messo 3 crostate alle fragole 2 souffle alle pere 4 torte ai lamponi 24 bignette al cacao un barattolone di crema pasticcera 15 budini alla vaniglia 8 litri di melasta 13 tubi di latte condensato 115 torroncini 312 ciliegine candite 7 confezioni di gelati al fior di latte 15 ghiaccioli alla marena 6 granite al pistacchio 401 lecca lecca al minuto 9 kg di meringhe alla valiglia 5 scatole di cioccolatini ripieni 16 scatole di biscottini allo zenzero 22 bastoncini di zucchero filato 42 kg di caramelle alla fragola 37 bastoncini di liquirizia 3279 gomme da masticare alla menta tripla 1 stuzzicadenti 42 litro e mezzo di tisana digestiva 31 litro e mezzo di tisana digestiva 32 io borbottai disgustato 32 mi viene la nausea solo ad ascoltarti 33 altro che cibi energetici questa dieta non è per niente sana 33 lui mi porse una tazza di tisana digestiva 33 si vede che non capisci niente di alimentazione 34 tiè bevi un sorsino di tisana ti sentirai subito meglio 4 fa un azzo dall'imbarazzo che figurazza all'alba arrivamo finalmente a picco puzzolo nella regione montuosa della foresta oscura avevo le zampe tanto rattrappite che dovettero tirarmi giù di peso dalla bicicletta con un argano cioè un sistema di corde e carrucole prendi il mio zainetto e annusai stupito perché il mio zainetto puzzava lo aprì e mi tappai il naso conteneva un ammasso giallo umido e viscido che puzzava di uovo trappola gridò era il mio zabiglione dovevi trattarmelo meglio chica chica boom chic io mi infilai il berretto ma mi colò sul muso una pappetta marroncina trappola mi sgridò che pasticcione sei avevo messo nel tuo berretto la mia merenda otto cioccolatini alla nocciola non dovevi lasciare che si sciogliessero chica chica boom chic io frugai in tasca in cerca di un fazzoletto per pulirmi ma la tasca era incollata trappola sbuffò uffa ti avevo messo in tasca un tubetto di latte condensato dovevi starci attento strellai questo è troppo insomma lui fischiettando aprì una lattina di bibita energetica ma il liquido agitato durante il viaggio mi schizzò dalla punta dei baffi alla punta della coda io mi lamentai non posso cambiarmi il mio bagaglio è tutto inzuppato di miele benjamin mi offrì i suoi abiti di ricambio io ero disperato con gli abiti di benjamin ero ridicolissimo e tutti i passanti mi indicavano ridendo ma non avevo scelta diventai paonazzo dall'imbarazzo che figurazza alla prossima bimbi grazie a tutti